Più che una mostra è l'inizio di un percorso che vuol rendere tramite la fotografia l'identità e la memoria del paese. Così l'associazione culturale Imago viene costituita nel luglio del 2017 con un forte interesse per l'immagine fotografica e realizza una memoria collettiva, una mostra intitolata Floridia nel Novecento, scatti dagli albumi di famiglia, visibile nella Galleria d'Arte Contemporanea di Piazza del Popolo. L'iniziativa, dice il Presidente Toti Adorno, è dedicata al recupero della nostra memoria collettiva con lo scopio di preservarla dal sicuro oblio, il tutto ringraziando il contributo di quasi mille floridiani. Fotografie dunque provenienti da collezioni private messe a disposizione e che raccontano Floridia dalla fine degli anni venti per arrivare all'inizio degli anni Novanta del Novecento. Fotografie scattate per uso personali da persone comuni che hanno come soggetto le situazioni della vita quotidiana, L'obiettivo è quello di catturare un ricordo, un momento introspettivo e particolare, dice lo stesso Salvo Sequenzia spiegando la mostra. La famiglia è uno dei principali luoghi di produzione e di circolazione, in tal senso essa può essere anche definita fotografia domestica. Scene di vita familiari, raduni politici, momenti di lavoro collettivo, manifestazioni culturali e ricreative, funerali e riti, personaggi e volti, usi e costumi della Floridia che fu. Così Enzo Larocca scatta la foto di carri armati lungo via Archimede nella Seconda Guerra Mondiale, re luglio 1943. O nei primi anni Sessanta la protesta è lo sciopero di allunni pendolari, fissati nell'immagine di Pippo Borgione. A metà degli anni 40, padre amato circondato dai suoi picciriddi che posano nel giardinetto addicente alla canonica della Chiesa Madre, la foto è di Sergio Tarascio. Incontrata a Santuzzo, una scolaresca celebra la Festa del Grano ed è la foto del 1939 di Toti Adorno. Ma anche il campo sportivo Santuzzo abbraccia Turi, partesano, storico talent scout del calcio locale con le giovinissime promesse. La foto è di Augusto Cartelli. La mostra racconta, dice ancora, salvo sequenze alla parabola il destino della memoria visiva di una comunità, quella floridiana, dal suo passaggio avvenuto negli anni Settanta da una forma di società rurale ad una forma di società industrializzata, testimoniando con la perversiva diffusione, massificazione e globalizzazione dei mezzi di riproducità tecnologica e il dramma dell'uomo contemporaneo che vive in funzione della futura memoria, non essendo più in grado di vivere consapevolmente nel proprio presente. Questa mostra insegna a noi tutti, conclude il semiologo salvo sequenzia, insieme alla necessità dell'oblio, anche l'importanza di custodire la poesia del ricordo.